Intorno alla metà del Seicento, più precisamente nell'anno 1654, Emanuele Tesauro pubblica un'opera piuttosto importante, dal titolo curioso, Il cannocchiale aristotelico. In quest'opera prende in considerazione classifica, spiega, le figure retoriche sulla scorta di un grande classico dell'antichità, la retorica di Aristotele. È un testo importante perché ci consente di capire qualcosa della poetica del barocco, e dunque in questo video vi proporrò alcune righe, alcune considerazioni, su quella che Tesauro considera la figura retorica più importante di tutte, cioè la metafora, e la letteratura barocca è un trionfo e, mi verrebbe da dire, un abuso continuo proprio di metafore. Ascoltiamo le sue parole. Ed eccoci alla fin pervenuti, grado per grado, al più alto colmo delle figure ingegnose, a paragon delle quali tutte le altre figure fin qui recitate perdono il pregio. Siamo dunque arrivati al punto più importante del trattato di Emanuele Tesauro, e l'autore dice che finalmente siamo giunti, pervenuti, un passo alla volta, grado per grado, al più alto colmo delle figure ingegnose, al livello più elevato possibile di quelle che noi chiamiamo figure retoriche. Lui le definisce figure ingegnose, perché richiedono in latino ingenium, intelligenza, arguzia, molta intelligenza. E tutte le altre figure fin qui spiegate, dice lui, al confronto della metafora perdono il pregio, diventano davvero poco significative. Per quale motivo? Essendo la metafora, cioè dal momento che la metafora è il più ingegnoso e acuto, il più pellegrino e mirabile, il più gioviale e giovevole, il più facondo e fecondo parto dell'umano intelletto. Una definizione, o meglio una descrizione davvero particolare, quella che Tesauro ci propone della metafora, con una lunghissima elencazione di caratteristiche, ve le ripeto. La metafora è qualcosa di ingegnoso, acuto, pellegrino, mirabile, gioviale, giovevole. In sintesi, dice lui, il più facondo e fecondo, notate il gioco di parole, parto dell'umano intelletto. L'umano intelletto, cioè l'intelligenza degli esseri umani, è come una donna che partorisce qualcosa di estremamente facondo e fecondo, di molto retorico, facondo, e di estremamente fertile, produttivo, dunque interessante. È proprio la metafora. La metafora, e ce lo dice per mezzo di una metafora, è il parto migliore dell'intelligenza umana. È veramente particolare la capacità di quest'autore dell'utilizzare uno stile pieno di immagini e di metafore per parlarci proprio di metafore. A questo punto, nella prossima parte del brano, noterete una sorta di approfondimento puntuale dei termini che vi ho elencato prima e che vi ho evidenziato nel testo che vedete sullo schermo. Vediamoli uno per uno. Innanzitutto, l'autore aveva detto che la metafora è qualcosa di ingegnoso. Ci spiega perché. Ingegnosissimo veramente, però che se l'ingegno consiste, come dicemmo, nel ligare insieme le remote e separate nozioni degli propositi e obietti, questo appunto è l'ufficio della metafora e non di alcun'altra figura. Perciò che, traendo la mente non men che la parola da un genere all'altro, esprime un concetto per mezzo di un altro molto diverso, trovando in cose dissimiglianti la semiglianza. Vi ho segnato in queste righe quella che in fondo è la definizione di metafora che lui nuovamente ci propone. Ci spiega che cosa sia una metafora. Notate le sue parole a riga 5. Ligare insieme, cioè collegare, legare insieme, le remote, lontane e separate nozioni degli propositi obietti e obietti. Questo appunto è l'ufficio, il compito, la missione, mi verrebbe da dire, di una metafora. Cosa fa in concreto una metafora? Guardate la riga successiva. Esprime un concetto per mezzo di un altro molto diverso. Cioè dice una cosa per mezzo di un'altra, trovando in cose dissimiglianti la semiglianza, trovando un punto di somiglianza fra due cose che di per sé a prima vista ci sembrano, dice lui, dissimiglianti, molto molto differenti. Dunque la metafora richiede ingegnosità, ingegno, intelligenza nel trovare un punto di contatto fra due cose apparentemente distinte e diverse. Vediamo ora le altre caratteristiche. Si è detto che la metafora è qualcosa di acuto. Ora ci spiega perché. L è fra le figure, cioè fra le figure retoriche, la più acuta, però che, dato che, le altre, le altre figure retoriche, quasi grammaticalmente si formano e si fermano nella superficie del vocabulo. Ma questa, la metafora, riflessivamente penetra e investiga le più astruse nozioni per accoppiarle. Osservate l'avverbio che vi ho sottolineato, riflessivamente. Per mezzo della riflessione, ecco di nuovo un rimando all'intelligenza umana. Le altre, dice l'autore, sono figure retoriche superficiali. Si fermano nella superficie del vocabulo. Invece lei, la metafora, penetra in profondità. Richiede un'intelligenza più acuta, più penetrante. Investiga le più astruse nozioni per accoppiarle. Di nuovo l'immagine di prima. Due parole, due concetti, accoppiati tra di loro, anche se a prima vista ci sembrano distanti e differenti fra loro. Dunque una figura retorica ingegnosa, acuta, ma non soltanto. Anche pellegrina e mirabile. Vediamo perché. Ella è di tutte le altre la più pellegrina, per la novità dell'ingegnoso accoppiamento. Letteralmente pellegrina deriva dal latino peregrinus. Ci dà l'idea di qualcuno che va in giro qua e là per molto tempo. Ecco, una metafora richiede riflessione, pazienza, accortezza, intelligenza. Dobbiamo viaggiare con la fantasia fino a quando abbiamo trovato una coppia di concetti per l'appunto da occoppiare, per creare la novità di un ingegnoso accoppiamento. Ecco la conseguenza. Di qui nasce la maraviglia. Attenzione, parola chiave per capire il barocco, la letteratura, l'arte del barocco. È un'arte maravigliosa. Deve suscitare stupore, meraviglia per la sua novità nello spettatore, nel lettore. Di qui nasce la maraviglia, mentre che l'animo dell'uditore, dalla novità sopraffatto, considera l'acutezza dell'ingegno rappresentante e l'inaspettata immagine dell'obietto rappresentato. Ecco, quando noi leggiamo, notiamo una metafora particolarmente arguta, riuscita, ammeriamo da un lato l'acutezza, l'intelligenza di chi l'ha creata, lo scrittore, l'artista, ingegnoso, e rimaniamo sopraffatti dalla novità, dall'originalità, dalla stranezza di questa immagine inaspettata, inattesa. Una metafora ben costruita spiazza il lettore. Da ultimo si dice altrettanto giovale e dilettevole. Si riprende qui il gioviale e giovevole, il gioco di parole, di riga 3 del brano. Altrettanto giovale e dilettevole convien che sia, però che dalla maraviglia nasce il diletto, come dai repentini cambiamenti delle scene e dai mai più veduti spettacoli tu sperimenti. Arriviamo all'ultimo punto del ragionamento. Una metafora, si è detto, è ingegnosa, è acuta, è pellegrina, è meravigliosa. Ecco poi le sue conseguenze. È giovale e dilettevole. Cioè da un lato produce diletto, produce piacere, che è il piacere della conoscenza, della scoperta, della novità, e dall'altro lato è anche giovale, cioè giova alla persona che legge questa immagine così strana. È come se a questa persona ad esso un insegnamento facesse del bene, le giovasse per l'appunto. Qui evidentemente si fa riferimento a una vecchia concezione antica, classica, l'espressione miscere, utile, dulci, cioè mescolare, unire al tempo stesso l'utile e il dilettevole. Qui si parla di giovale e di dilettevole al tempo stesso. E notate il paragone conclusivo. Nasce il diletto, nasce il piacere del lettore, come da repentini cambiamenti delle scene e da mai più veduti spettacoli tu sperimenti. Qui un riferimento al mondo del teatro. Il barocco, la letteratura, l'arte barocca, è una sorta di rappresentazione metaforica del grande teatro che è il mondo, che è la vita umana. E qui si parla proprio concretamente del teatro, dello spettacolo. Esattamente come a teatro, da un improvviso cambiamento di scena, nasce stupore, meraviglia negli spettatori, nasce per l'appunto il diletto dalla lettura, dalla considerazione di una metafora arguta, intelligente riuscita. È come se vedessi, dice l'autore, un non mai veduto spettacolo. Uno spettacolo mai visto prima, originale, che ti colpisce con il suo carattere sperimentale e originale. Come vedete dunque la metafora è davvero la regina delle figure retoriche per Emanuele Tesauro e per tutti i grandi autori del barocco della letteratura del Seicento. È qualcosa di ingegnoso, acuto, pellegrino, mirabile, gioviale e giovevole. Vi ringrazio per l'attenzione. Se il video è risultato interessante ed utile lasciate un like e se volete farlo e non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube. A presto, ai prossimi video.